Eccoci, eccoci come state ben ritrovati, di nuovo buona giornata da Milanello, la casa dei milanisi su YouTube. Vi invito come sempre a commentare numerosissimi, a lasciare un bel like qui sotto, iscrivetevi da questa parte. Attivate la campanella numerosi mi raccomando, qui sotto c'è anche il link del mio canale personale, vi aspetto anche lì, ci tengo tanto. E quindi iscrivetevi, c'è poi il podcast di Van Basten, vi aspetta, lo sapete. Allora ragazzi, definiti questa mattina gli ultimi dettagli per l'operazione Temmie Ebram in rosso-nero, Alexis Alemakers in giallo-rosso. Vi chiedo subito, a questo punto, un suggerimento sul soprannome di Temmie Ebram. Temmie Ebram... Eh, oggi non ho una grande fantasia, quindi mi affido a voi, consigliatemi qualcosa qui sotto. Operazione che è stata definita negli ultimi dettagli, con il giocatore che ha ricevuto l'autorizzazione per volare a Milano, è in arrivo con un aereo da Roma a Milano, dove sosterrà le visite mediche, con la squadra che oggi andrà invece da Milano a Roma, per poi giocare domani sera contro a Lazio. Vedremo se verrà aggregato anche Temmie Ebram, cosa che tendenzialmente non facciamo. Però spero che qualche volta si possa fare un'eccezione. Comunque è un giocatore che ha fatto la preparazione con la Roma, ha fatto il precampionato, è sceso in campo qualche minuto nella prima partita, non nella seconda. Vero che ieri non si è allenato, però magari tenerlo in panchina può essere cosa. Anche perché adesso parliamo anche di Jovic, di lui che cosa succede. Devo dire che ero scettico sul conguaglio in favore della Roma, perché la Roma voleva 10 milioni, mi era arrivato a 5, poi era arrivato a 7. La nuova formula invece mi sembra molto interessante. Mettendo da parte per un attimo il discorso legato alla perdita di Salemakers. Ebram in prestito per me è un'ottima operazione. Perché, ne parlavamo anche qualche settimana fa, Ebram ha un punto di domanda enorme attorno alla sua silhouette. Punto di domanda legato al pesante infortunio che ha avuto, legato al fatto che non si sa se e quando torna ai suoi livelli. Ha fatto 8 partite con un gol lo scorso anno, nella parte finale. Spesso ci sono giocatori che piegano un anno, qualcuno anche due. Dopo il crociato vedi Chiesa che dopo qualche anno non è ancora il Federico Chiesa pre-infortunio e magari non tornerà mai. Qua è il Federico Chiesa. Tra l'altro lo incontreremo curiosamente in casa Milan Lever, Principio Slick, perché ieri è stato ufficializzato il giocatore ai Reds. Così come il nostro calendario che vedrà anche il Liverpool, oltre che Real Madrid e il Milan, le tre squadre che hanno vinto più Champions di tutte in circolazione. Ebbene, il prestito secondo me è un'ottima operazione. perché non vai a spendere a occhi chiusi quasi senza sapere le condizioni fisiche di questo giocatore che oggi verranno indagate dai consueti esami strumentali, dalle visite mediche classiche. E poi però gioca, è disponibile, si fa male, ha questo problemuccio. Speriamo che non abbia il problemone. Io se vado a spendere soldi per un giocatore che poi magari mi rimane sul groppone e spesso ferma i box, non è cosa. Così facendo invece tu prendi un'auto, vedi come ti trovi. E questa mi sembra invece un'intuizione molto buona. Alla fine il Milan lo prende alle sue condizioni, va detto, alle migliori condizioni possibili. Quindi bene così. In questo caso dico bravi. Poi Ebram a qualcuno non piace. Sicuramente come numero 9 per caratteristiche è molto più 9, terminale offensivo isolato rispetto a Jovic che invece ha bisogno di una punta a suo fianco. Qualcuno dice che se Ebram sta bene fisicamente si prende la titolarità a discapito di Morata. Questo non lo so. Però magari anche avere questo dubbio a regime potrebbe essere molto interessante. Sicuramente rispetto allo scorso anno avere insieme Morata più Ebram poi vedremo di Jovic mi fa dire che quest'anno come reparto di numeri 9 siamo messi sulla carta meglio rispetto allo scorso anno. Per me è così. Mi sento molto più tranquillo, molto più coperto sperando ovviamente che Ebram stia bene. C'è questo punto di domanda, il se. Se Ebram sta bene. Oggi non lo possiamo sapere. Oggi lo scopriremo con le visite mediche se intanto a livello clinico è sano e non ha nulla. Attenzione alle visite mediche perché ecco ieri Danso giocatore dell'anno che in passato era stato accostato anche al Milan difensore che la Roma stava prendendo non ha superato le visite mediche con la Roma quindi le visite mediche di un giocatore che si è fatto il crociato che ha avuto qualche problemino oggi siccome saranno approfondite. Speriamo che siano superate che Ebram diventi un nuovo giocatore del Milan almeno per un anno. Il discorso Danso poi si lega anche all'intercid mercato con il Milan. Danso la Roma doveva pagarlo mi sembra 25 milioni ora non lo prende più la Roma ha preso Thiago Jalò ex Milan seppur breve parentesi in primavera dalla Juventus prestito oneroso con diritto di riscatto e quindi il disavanzo quei 23-24 milioni di euro che doveva spendere per Danso li può spendere tranquillamente con il Borussia Mönchengladbach per Manu Kone che resta un obiettivo del Milan attenzione oggi oggi scopriremo questa cosa qui dove andrà Manu Kone sulla carta sulla carta il fatto che ora la Roma abbia a mano i soldi ti lascia pensare che dovrebbe avere l'autostrada spianata per andare a prendere Manu Kone in Germania dall'altra parte ed è una cosa che però va fatta in mattinata devi far venire qua il giocatore far le visite l'idoneità sportiva l'iter non Italia su Italia è più lungo che Italia su Italia come è il caso di Ebram dall'altra parte però ecco ieri sia Milan che Roma hanno presentato verbalmente non attraverso la PEC una proposta alla Roma alla Borussia Monchengladbach che è identica cioè Milan e Roma offrono i stessi soldi al Borussia per Manu Kone la Roma però ha una disponibilità maggiore oggi il Milan ha il problema della casella però attenzione perché qui c'è il discorso legato a su Ebram prenderà lo stesso stipendio che prendeva la Roma quindi uno stipendio robusto ma con il decreto crescita quindi alla fine il Milan chiedeva un sacrificio perché doveva pagare il conguaglio non c'è più conguaglio conferma lo stesso ingaggio a Temi Ebram che tra l'altro è il miglior amico di Tomori e ha già lavorato con Loftuscik e anche con Pulisic e magari anche con qualcun altro ma così su due piedi me lo dimentico con Morata non credo no forse sono dati il cambio detto questo il discorso Milan per mano con E come fai ad arrivare a mano con E ecco per mano con E qui entra in gioco la carta Jovic perché Jovic a questo punto che fa io ricordo che Zata di Ibrahimovic un paio di settimane fa aveva detto una cosa che avevamo tutti un po' smontato come teoria cioè non prendiamo il terzo attaccante perché sarebbe come tarpare le ali al Milan futuro e io avevo detto ragazzi è una scusa lo prendi se ti serve e mi sembra che serva al Milan perché Jovic quella cosa lì fa fatica a farla da solo fa bene quando ha una punta a suo fianco a livello tattico però era lì da vedere questa realtà da mesi già da mesi da un anno mi rifiuto di chiedere che l'abbiano scoperto negli ultimi giorni questa cosa qui quindi la bocciatore Jovic dal punto di vista tattico doveva essere già arrivata prima poi io se resta me lo tengo a gara in corso con una punta a suo fianco se vi recupero il risultato può incidere è stata una gestione un po' particolare quella della punta lo ribadiamo detto questo Jovic che fa Jovic che è un profilo un po' particolare non dico alla Rebic sono anche amici ma su quella falsa riga lì è uno che è capace di restare sapendo di essere la terza scelta perché? perché al Milan sta bene sei al Milan sei a Milano sei a Milanello cosa vuoi di più Ramadani che il suo agente ha ricevuto richiesta da Moncada l'altro ieri di trovare delle squadre ha delle squadre che si sono fatte avanti e questa mattina capiremo anche questo primo pomeriggio ma in teoria anche pomeriggio pieno perché chiude il mercato a mezzanotte se Jovic deciderà di restare sapendo di essere la terza scelta con il rischio di giocare molto poco o se deciderà di andare via a quel punto il Milan potrebbe fare anche una plusvalenza avendolo preso a zero dalla Fiorentina se Jovic non va via qualcuno scrive oggi lo lasci fuori rosa ma lasci fuori rosa un giocatore che paghi e che a livello di immagine ti disintegrerebbe perché tu l'hai riscattato per poi lasciarlo fuori rosa sarebbe proprio il sigilo la fotografia nitida di una gestione un po' improvvisata anche se nella vita è lecito cambiare idea però nel giro di due mesi non sarebbe il massimo cioè il Milan dirigenza ne uscirebbe malissimo detto questo se invece Jovic va via c'è spazio per mano con E con il Milan che risparmia quei 7 milioni di euro che doveva destinare come conguaglio a Roma e può anche perché ha un bilancio florido andare a prendere mano con E però in questo momento chiaramente la Roma avendo più soli disposizioni avendo gli slot liberi appare in vantaggio su mano con E e vediamo un po' che cosa succede c'è sempre il discorso regato poi a Ben Nasser il mercato in Arabia chiude il 2 però non mi sembra ci siano un momento radar particolari con Ben Nasser che è tornato a lavorare a Milanello come è giusto che sia però non credo che vada via quindi alla fine non dai alla Roma i soldi per prendere mano con E ma la Roma prende i soldi per prendere mano con E non prendendo più Danso ma avendo preso dalla Juventus Tiago Jalò questo un po' è il movimento nel frattempo su Ebram mi intriga è una scommessa ma una scommessa non più rischiosa perché non vai a pagare soldi con il rischio e magari ti resti lì sul gruppone come è successo per Orighi giocatore che in questo momento è ancora al Milan anche se a Milanello non c'è perché è fuori 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 da tutto ditemi che ne pensate per me ripeto Ebram in prestito è un'ottima operazione e la si fa un po' più a cuore leggero poi è vero che perdi sale makers del quale poi parleremo commentate lasciate un like iscrivetevi qui numerosissimi attivate la campanella ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti ovviamente grazie grazie a tutti